Cari amici, buongiorno. Recentemente ho letto un articolo di Paolo Crepè, in cui Paolo Crepè, il noto sociologo, psicologo, parla della strage che c'è stata a Paderno Dugnano, di questo ragazzo di 17 anni che all'improvviso ha sterminato tutta la famiglia, il fratellino, la madre, il padre, con un coltello da cucina. Cose agghiaccianti, solo l'idea credo che faccia venire la pelle d'oca. La cosa che fa notare questo noto psicologo è il fatto che i vicini, i coetanei, gli amici, gli insegnanti, nessuno si era accorto del disagio evidente di questo ragazzo. E questo è il problema, una società malata che non coglie, che non percepisce i disagi. Forse anche la famiglia, sicuramente anche la famiglia di questo Riccardo non aveva colto il suo disagio. Forse era una di quelle tante famiglie in cui neanche si mangia assieme, neanche a tavola si dialoga, perché ognuno scende a mangiare quando gli gira, quando ha fame, magari con le cuffie in testa o con la tv a tutto volume, e non c'è dialogo. Purtroppo in molti casi basterebbe un come stai per far emergere questo profondo disagio, ma se non c'è questa domanda, se non c'è questo rapporto, non c'è questo dialogo, è chiaro che tutto rimane dentro e poi scoppia. È una situazione veramente grave che stiamo vivendo, una società malata, come giustamente ripete Paolo Crepè. E di fronte a questo, io che sono credente, che sono genitore, penso a questo libro, questo splendido libro che si chiama la Bibbia, che vuol dire i libri. Sapete perché si chiama Bibbia, i libri? Perché sono diversi libri, scritti in epoche diverse, ma tutti ispirati da Dio e utili per noi. È il dialogo di Dio con noi Suoi figli. E all'interno di questo libro c'è il libro dei proverbi, un libro scritto da Salomone per suo figlio. Più volte ricorre proprio figlio mio se ricevi le mie parole, serbi con cura i miei comandamenti, figlio mio non dimenticare il mio insegnamento, figlio mio, figlio mio. C'è un dialogo tra l'ecclesiaste, così si faceva chiamare, l'insegnante, il maestro Salomone e suo figlio. C'è un interesse. Ci sono regole trasmesse, ci sono comandi, ci sono anche riprensioni, correzioni tra il padre e il figlio. Questo è lo scopo del libro dei proverbi e indirettamente di tutta la Bibbia. E io mi auguro che tu, caro amico, di fronte a questo episodio drammatico, possa cogliere almeno un consiglio positivo. Leggiti il libro dei proverbi, Dio. Instaura un dialogo con i tuoi figli, con i tuoi parenti, con chi vive con te. Togli di quelle maledette cuffie e parla da voce a orecchio senza ostacoli. E io sono convinto che il Signore ti benedirà dalla lettura e anche dalla messa in pratica di questi consigli. Dio ti benedica. Grazie a tutti.